buongiorno a tutti bentornati sul mio canale sono rosso oggi vi parlo della cura del basilico sono nell'orto vi parlerò del basilico sia messo a terra nell'orto in questo caso e sia quello in vaso che vedremo tra un po in questo video vi farò vedere pochi semplici non trucchi ma modi corretti per avere sempre un basilico bello sano rigoglioso e che duri a lungo ho scelto non per caso questo gruppo di piantine di basilico che sono già in fiore questa prima cosa di cui voglio parlarvi e per questo ho scelto questo insieme di piante allora queste le ho messe a dimora un mesetto fa piccola premessa le foglie che vedete di questo colore biancastro e perché hanno beneficiato del trissi di prodotti tannino di castagno bentonite caolino l'ho dato ai pomodori che sono qui vicino e ne hanno beneficiato anche loro quindi male non li fa e polvere di roccia queste poi si raccoglie semplicemente e si sciacqua sotto l'acqua serve per proteggere un attimo dai insetti le parassiti dai raggi del sole allora la prima cosa di cui voglio parlarvi è della potatura o cimatura della pianta ne approfitto perché tanto l'avrei dovuta fare è una cosa vi capiterà sicuramente di fare se volete tenere la pianta a lungo e vi parlo brevemente quindi di quello che c'è da fare questi sono i fiori della pianta la pianta a un certo punto cresce le condizioni climatiche sono buone l'acqua c'è poi vi parlo anche dell'irrigazione ecco che la pianta tende a emettere i fiori perché deve riprodursi ora se noi lasciassimo questi fiori qua sulla piantina una volta che i fiori si saranno seccati si cercherà anche la pianta quindi non potremo raccogliere nulla il segreto uno dei segreti per tenere la pianta più a lungo è quella di cimare la pianta ovvero togliere i fiori che fa periodicamente e le emette di continuo quindi bisogna starci dietro semplicemente con lunghi e si tolgono eccoli qua questi volendo si possono utilizzare perché sono profumati come le foglioline se volete altrimenti le buttate via questo ovviamente se vogliamo tenere la pianta a lungo se invece vogliamo fare i semi per la stagione prossima siamo a fine stagione li vogliamo conservare ovviamente non tocchiamo nulla facciamo sì che i semi si secchino maturino a quel punto possiamo conservare in luogo asciutto magari dentro dello scottex fino all'anno prossimo non è questo il caso siamo giugno vogliamo tenere la pianta ancora lungo quindi semplicemente con l'unghia togliamo tutto ciò che riguarda i fiori togliendo i fiori la pianta è stimolata a emettere nuovi getti alla base quindi avremo un cespuglio più grande qui avevo trapiantato un gruppo di piantine sono 56 piantine anche di più volevo fare qualcosa di folto una coltivazione un pochino più accentuata ecco perfetto benissimo seconda cosa da fare tenerla pulita dalle infestanti questa non l'ho tolta apposta guardate sono le erbe che arrivano infestanti che arrivano da altre parti dell'orto ovviamente in vaso il problema è meno accentuato ma nell'orto si sente parecchio qui sono toglie tutto anche quelle che le assomigliano guardate qui altra cosa la pacciamatura appunto per difendere dalle erbe infestanti occorre una pacciamatura io io qui ho messo il telo perché li ho trapiantati tra i pomodori adesso vi dirò il perché e voi potete mettere sfalci d'erba paglia segatura cippato quello che trovate insomma l'importante è tenere a bada le erbe infestanti irrigazione questa pianta qui necessita di un suolo sempre umido sempre ben drenato ma mai 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 con ristagno d'acqua altrimenti le radici si seccano e la pianta muore nel giro di poco tempo quindi una pianta che veramente teme il ristagno idrico e quindi va innaffiata poco e spesso anche un paio di volte al giorno se il terreno potete provare col dito questo momento è asciutto perché ho innaffiato ieri sera adesso finisco il video e faccio andare l'irrigazione in questo caso l'irrigazione goccia goccia che è la cosa migliore nell'orto sia per risparmiare acqua e sia per dare la giusta quantità di acqua esattamente lì dove serve e per dare al terreno il tempo di assorbire la goccia d'acqua e farlo arrivare fino alle radici la penultima cosa di cui vi voglio parlare l'esposizione al sole questa pianta teme i raggi solari diretti ecco perché va benissimo in associazione con i pomodori perché il pomodoro è una pianta che viene su alta ecco guardate questa è la situazione ideale lei ha qualche raggio di sole diretto ma poca roba ovviamente in base a poi come giro il sole ma gode di un'ombra preziosissima dovuta da questa pianta di pomodoro eccola qui per contro la pianta di pomodoro sfrutta il profumo del basilico che non è apprezzato da alcuni insetti e quindi li tiene lontani è una consociazione vincente io sono due tre anni che la faccio mi trovo molto bene quindi vi consiglio di farlo anche voi se avete l'orto ultima cosa di cui voglio parlare per quanto riguarda il basilico qui nell'orto e la raccolta ma questo avrà anche per quelle in vaso se dovete raccogliere il foglio linee si raccolgono sempre quelle sopra quelle più alte ad esempio in questo caso non si staccano quelle laterali si prendono quelle di sopra così la pianta incentivata a emettere nuovi getti laterali se voi togliete le foglie laterali sono anche belle per carità la pianta tende a venire su alta esile e non è ciò che vogliamo prendiamo ciò che ci serve io adesso non ho le forbici dietro ma ecco qua queste sono le nostre foglie per il sugo ci spostiamo e vediamo la cura del basilico in vaso questo è il basilico in vaso che abbiamo trapiantato un po di tempo fa non è bellissimo vi voglio far vedere alcuni errori che abbiamo commesso e che onestamente non ho corretto opposta perché volevo farvi vedere i danni causati da questi errori altrimenti era troppo facile manca terreno quindi ogni tanto va aggiunto del terreno nuovo perché vedete ci sono le radici fuori era esposto in zona non troppo soleggiata ma molto più che nell'orto e quindi abbiamo alcune foglie bruciate eccole qui vedete e anche questo necessita di una operazione di cimatura dei fiori eccole qua questi come vi dicevo se volete sono commestibili che potete mettere alla stessa stregua delle foglioline sono sono profumatissimi ultima cosa che mi va di dirvi su questo vaso di basilico e di non mettere assolutamente il portavaso cosa succede noi innaffiamo la pianta ne mettiamo un po di più di acqua succede sempre l'acqua scorre e finisce nel portavaso le radici che sono al fondo continuano a prendere acqua che c'è e tendono a marcire quindi questo almeno io non lo utilizzo più una volta che l'acqua defluisce defluisce e pazienza si innaffia al pari dell'orto e non ve l'ho detto prima nelle ore più fresche della giornata o il mattino presto o la sera all'imbrunire basta che la terra sia umida non deve essere stagnante non ci deve essere l'acqua che galleggia per quanto riguarda questo specifico vaso le cose da fare adesso sono trovare una posizione migliore ovviamente e togliere le foglioline che non sono belle così diamo la possibilità alla pianta di rigenerarsi acquistare energia e ovviamente dobbiamo aggiungere un po di terreno è una curiosità tutte queste piantine qui uno due tre quattro cinque sei sette otto piantine erano tutte dentro un vasetto singolo di piantine di quelle comprate al vivaio o supermercato quando comprate la vaschetta da sei o da quattro dentro ogni alveolo non c'è solo una piantina ce ne sono quattro cinque sei dipende quante ne hanno attecchito quelle con un po di pazienza si possono separare mettere nei vasi singolarmente distanziate di un 10 15 centimetri uno dall'altra per dargli spazio di crescere qui abbiamo sbagliato perché ci vorrebbe un pochino di terra in più in realtà c'era ma poi si abbassata non l'abbiamo aggiunta e quindi da un singolo alveolo vengono fuori 4 5 piantine se voi immaginate da 46 alveoli vengono subito fuori 20 24 30 piantine ogni confezione da 4 se non sbaglio costa 2 euro e 50 fatevi il conto dei soldi che si possono risparmiare semplicemente suddividendoli così è una pianta che dura molto dura a lungo se si tratta bene dura anche tutta l'estate se invece non si seguono questi pochi consigli l'irrigazione la cimatura l'esposizione solare e il portavaso sotto è una pianta che dura 15 20 giorni e poi la si butta via e se ne compra un'altra ed è un peccato spero di avervi dato un consiglio utile su queste piantine qui sono veramente profumate sono uno spettacolo da avere vicino casa si possono utilizzare ovviamente per i sughi per le conserve noi lo utilizziamo parecchio facciamo la conserva guai a non averne abbiamo quattro cinque vasi grandi molto più di questa ma soprattutto nell'orto c'è una cinquantina di piante intervallate i pomodori come ho fatto vedere perché mi serve appunto come consociazione se volete farmi qualche domanda sulla cura del basilico vi rispondo molto volentieri se volete dire voi qualcosa a me magari mi sfuggito scrivetelo pure ve ne sono grato spero di esservi stato utile se vi è piaciuto il video volete lasciare un like o se magari volete iscrivere vi ringrazio vi auguro una buona giornata ci vediamo giovedì prossimo